Nell'ottica di Smart City, Vercelli continua proprio il suo impegno. L'amministrazione dal 1 luglio comincerà ad attuare un nuovo sistema relativo allo sportello unico digitale per le attività produttive e questo nuovo SUAP che andremo oggi a presentare perché sarà un nuovo sistema di semplificazione delle procedure in modo tale che utilizzando sistemi telematici tutti i nostri professionisti dei vari settori trovino immediatamente un canale di comunicazione con l'amministrazione. Questo non significa un isolamento da quelli che sono i nostri uffici ma significa semplificazione in linea con quelle che sono le indicazioni date dalla normativa. Allora con il nuovo SUAP acquisito dalla nostra amministrazione che è un software fornito a circa 700 comuni del Piemonte quindi è un software ampiamente testato e molto efficiente noi porremo i nostri professionisti nelle condizioni migliori. E proprio per facilitare l'utilizzo di questo software oggi c'è questo incontro di formazione con tutte le figure professionali che qui alla Cripto del Sant'Andrea possono prendere atto e insieme ai nostri tecnici possono cominciare a comprendere quali sono i meccanismi, quali sono i modi di azione per l'utilizzo del materiale. Perché questo? Perché è un'esigenza, è un'esigenza dell'amministrazione, è un'esigenza del territorio. Noi vogliamo favorire tutto quello che saranno i nuovi insediamenti di qualsiasi tipologia e quindi in questo modo noi andiamo incontro nell'ottica di Smart City ma non finisce con questo perché questo è un percorso in itinere perché Smart City vede ben altre azioni che man mano andremo a presentare.